FitWikicon è la conferenza italiana dei volontari dei progetti Wikimedia. Il progetto su cui sono più attiva è la Wikipedia in italiano. Faccio delle escursioni anche negli altri progetti Wikisource, Wikivoyage, Commons, quindi il caricamento di foto, Wikidata. Io sono innanzitutto un amante del prodotto editoriale Enciclopedia, lo sono sempre stato al tempo delle cartacee e sono affascinatissimo dall'idea che l'Enciclopedia possa essere scritta dalla comunità degli utenti di internet. Mi entusiasma oggi, come quando è iniziata, l'aspetto di conoscenza libera e neutrale. Si scoprono tantissime cose su Wikipedia, perché ci si muove da una pagina all'altra, da una voce all'altra, da un collegamento all'altro, leggendo anche delle cose, degli argomenti che normalmente uno non leggerebbe, non so, cose di fisica, cose di chimica, non mi verrebbe mai in mente di andare a leggerli. Il poter riuscire a raggiungere tutte le persone e far sì che abbiano accesso a tutto il sapere è una grande forma anche di libertà dell'umanità e quindi secondo me vale la pena contribuire per questo scopo. Perché alla fine tutto quello che facciamo è volontariato ed è volontariato volto alla creazione di un patrimonio comune, veramente condiviso e alla distribuzione della cultura. Quindi mi piace che siamo tante persone con un background assolutamente eterogeneo che collaborano insieme per la costruzione della cultura condivisa e soprattutto accessibile a tutti. Il Quikicon è una grandissima opportunità per riuscire a incontrarsi con le persone che si vedono soltanto online. Io per anni ho interagito con persone per 15 anni, 14 anni, di cui vedevo soltanto una firma, un nome, e invece quando ho cominciato a vedere anche facce, sentire le voci, interagire personalmente è stato chiaramente un valore aggiunto che non ha tolto niente alla nostra contribuzione, alla nostra collaborazione sui progetti Wikimedia, ma anzi ha dato una nuova spinta alle contribuzioni collettive. Per i progetti è importante perché è un momento di scambio di informazioni, anche di aspetti tecnici, di condivisione di anche tool, strumenti che poi vengono usati nei progetti. Nel futuro dei progetti Wikimedia vedo sicuramente una crescita dei contributori, ma anche una crescita della consapevolezza nella popolazione, almeno questo è il mio augurio, di quello che facciamo, perché la maggior parte delle persone, praticamente tutto il paese, utilizza Wikipedia senza effettivamente avere contezza del fatto che dietro ci siano dei volontari e che serva anche una mano a migliorare e a lavorare sui contenuti che proponiamo. E provare nuove strade per fare sì che la conoscenza sia sempre più adatta a ciascuno di noi, perché il nostro progetto, come sapete, è portare la conoscenza a disposizione di chiunque su questo pianeta, nella speranza che possa esservi utile personalmente e che possa ritornarci in un utile collettivo come società che cresce.